Ecco a voi, the best of Tommaso Zorzi. Esclusiva shock. Partiamo così! Grande Fratello è un'esperienza quasi paranormale. Pazzesco, 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 pazzesco. Hai un po' di musica. E fa mezzo a un'ogastica di me. Alla fine, più che un'esperienza televisiva, questo è stato un pezzo della mia vita. Credo che valga come servizio militare. Non è che la gente non sa più chi sono. Credo di essere stato una persona migliore di quella che ero per entrare qui. Cioè, mi sento un po' della vita. Maria Teresa, Stefania e Francesco siano le tre persone senza le quali non riesco a immaginarmi il famoso come sarebbe stato se no. Quindi sono rassolti quello che ti sto dicendo. Nel tuo modo di essere! Vedo che con Francesco sia stato amore a prima vista. Tu sei il nome che ti sto dicendo. E' un po' di musica. Grazie a tutti